Vincerò la Coppa del Mondo per il Brasile, te lo prometto. Belè assieme a pochi altri elementi e campioni della sua statura, della sua bravura, rappresenta quello che è l'ideale del calcio, un sport che ha catturato da sempre l'attenzione e la fantasia della gente attraverso proprio questi interpreti straordinari. Avrai anche 16 anni ma adesso rappresenti la nostra grande nazione. C'è naturalmente da sempre una specie di classifica che viene stilata da esperti, da semplici e anche appassionati, nella quale Belè è considerato assieme a Maradona forse il più grande calciatore che sia mai esistito. È arrivato il momento di Belè. Io non lo so se vinceremo, ma gli faremo vedere uno splendido gioco. Io lo incontrai per la prima volta, era stato appena assunto dalla RAI ai mondiali del Messico 70 ed è in modo un paio di volte di intervistarlo e lui fu sempre molto amabile anche con noi giovani cronisti. Ricordo in particolare che quando gli chiedemmo la vigilia della famosa Italia-Brasile che poi finì con la vittoria dei brasiliani per 4-1, chiedemmo chi avrebbe vinto secondo lui. Lui con l'aria un po' di prendersi in giro ci disse che non conosceva bene il calcio italiano ma sapeva che l'indomani non avrebbe giocato Rivera. E ha detto se non gioca Rivera vuol dire che avete 10 giocatori più bravi di lui e quindi vincete voi sicuramente. Devi ispirare i tuoi compagni a credere in loro stessi. Grazie. Grazie.